Abbiamo scelto Vercelli per questo quarto incontro tra la rappresentativa di Lega B Italia e l'omologa russa perché crediamo che lo stadio di Vercelli sia un piccolo gioiello tra le nostre infrastrutture, porta un nome importante. La società è una società, la Pro Vercelli, che si muove in maniera molto intelligente, in maniera equilibrata, ha un buon modello organizzativo, aveva piacere di ospitargli la partita di una nostra rappresentativa perché l'altro incontro italiano lo abbiamo fatto al sud e quindi ci sembrava normale poi far conoscere anche questa parte d'Italia agli amici russi. E quindi siamo convinti che possa essere una buona promozione del territorio in un paese come la Russia che ama l'Italia e le buone cose dell'Italia e Vercelli offre degli spunti in tal senso dal punto di vista enogastronomico, agroalimentare, in senso culturale e in senso ambientale. Una buona scelta, speriamo sia anche una buona partita, anche se l'obiettivo più importante è quello di far venire tanti ragazzi delle scuole. Abbiamo lavorato con l'amministrazione comunale e con la Pro Vercelli proprio per fare in modo che questa partita che giocheremo alle ore 12 possa essere un momento di incontro anche di socializzazione degli studenti del territorio.